Ciao a tutti e benvenuti. A me sembra che l'intervento più calibrato, più misurato, più realistico sulla fase della seconda metà di giugno di quest'estate che sta vivendo il Milan l'abbia dato come punto di vista, come ricognizione, il presidente Scavoli, quando ricorda che se c'è stato qualche ritardo è dovuto evidentemente al cambio di proprietà e non a notti dei lunghi coltelli o a tutti contro tutti, come sento e come leggo favoleggiare da qualche parte. Ieri c'è stata anche questa frase del presidente Scaroni su Leao, alla domanda sulla cedibilità di Leao il presidente Scaroni ha parlato «Non mi occupo di cessioni, di queste cose si occupa Maldì». Ora, capisco anche magari il brivido che è passato a qualche tifoso rossonero perché su Leao Maldini sta parlando di cessione, no Maldini non sta parlando di nulla in pubblico e si trattava semplicemente, nell'italiano molto misurato, molto calibrato, del presidente Scaroni della risposta ad una domanda. Se tu chiedi di cessione, il presidente Scaroni ti risponde di cessione. Ma cessione o rinnovo o quel che sarà fa tutto parte della competenza di Paolo Maldini che evidentemente non è in discussione, cioè la frase del presidente Scaroni non è la frase su un dirigente che fra nove giorni scade ma su un dirigente che a suo modo di vedere, a modo di vedere di tutti, proseguirà il suo lavoro. Vi ricordo che OneFootball vi aspetta, OneFootball con la sua app, OneFootball con i suoi contenuti. Scegliete il Milan come squadra preferita, andate sulla descrizione di questo video, c'è il link, scaricate gratuitamente l'app di OneFootball e avrete tutti i rumors di calciomercato del Milan a vostra esposizione gratuitamente derivanti dall'app di OneFootball. L'app di OneFootball vi aspetta, scaricate l'app di OneFootball. Detto questo, è chiaro che l'Eao diventa un giocatore importante perché vediamo che gli avversari stanno lavorando e stanno trattando per rinforzarsi. Gli avversari stanno cercando di far diventare quello del Milan lo scudetto della confusione. Dopo due anni di negazione, adesso tentano per difendere il loro rosicamento di parlare di scudetto della confusione. Ma in realtà la compattezza che c'è stata al Milan è stata sotto gli occhi di tutti. Poi per carità, nei passaggi cruciali della vita di un club tenere tutto insieme, tutto aggiustato, tutto al suo posto non sempre è possibile. In tutti i grandi club ci sono le posizioni, ci sono le dialettiche, ci sono le situazioni. In casa nostra è chiaro che tutti avremmo voluto che al 21-22 di giugno quel che è fossero già arrivati i nomi che si fanno da tempo e che non esistesse nemmeno il tema della prosecuzione del contratto di Paolo Maldini e Enricchi Massara che nel migliore dei mondi possibili tutti i tifosi del Milan si sarebbero augurati proseguissero in automatico, senza distinguo, senza tante cose. Però certamente il 21-22 di giugno non si è esaurita l'estate. Adesso sembra in una stagione come la prossima, che sarà lunare, come date, come periodi di calcio, da ferragosto a metà novembre, calcio pancia a terra, poi calcio tutto fermo, inizia un'altra cosa, un'altra creatura, un'altra preparazione, in un altro continente, in un altro fuso orario, si torna indietro e si ricomincia pancia a terra nel 2023. Quindi in una stagione pazza come la prossima, in cui potrà succedere tutto il contrario di tutto, in cui la programmazione, per quanto la si potrà e la si dovrà fare, risulta un valore molto aleatorio, se non fai tutto entro il 6 luglio sei un pirla. Per carità, è un'opinione, ma lasciate che non sia l'unica. Io qui vedo che ogni cosa, adesso non voglio fare né il vittimista, né quello che si arrampica sui vetri, ma qui è il mondo delle notizie un tanto al tocco ogni minuto che si affloscia su se stesso, che si parla addosso. Mi spiego. Botman è già del Milan, Botman va al Newcastle, Botman, il Milan offre 15, il Lille chiede 30, Botman, il Newcastle offre 30, oggi è Botman, il Lille chiede 40, e né Milan né Newcastle si avvicinano. E poi leggo che tutta questa ridda di voci, ragazzi, basate su poco, francamente, non voglio mancare di rispetto a nessuno, un tanto al minuto è colpa del caos societario del Milan. Eh, ma tu allora cerchi i pretesti per far casino contro il Milan. Perché se uno si sveglia la mattina, dice 15, l'altro dice 30, l'altro dice 40, è colpa del Milan. Milan che sul mercato non fa uscire un proprio spiffero che sia uno. Renato Sanchez. Io ho passato un sabato sera drammatico, sotto assedio da parte dei tifosi, che mi dicevano che io mi nascondo. Cioè, uno scrive che Renato Sanchez va al Paris Saint-Germain e il problema diventa suma, che si nasconde o suma che non critica. Ma voi criticate voi. Ci pensate voi a criticare? Che bisogna cercare che critichi anch'io. Io tengo la mia, per chi ha la pazienza di seguirmi. Poi c'è questa abitudine di, adesso appena io manco da Milano qualche giorno, di parlare di me in mia assenza. Uno mi ha detto oggi, ah, tu devi rendere conto. Io non rendo conto assolutamente a nessuno quando esprimo un'opinione. Rendo conto a me stesso e alla mia opinione. Certamente non guardo il Milan dal buco della seratura. Certamente non parlo del Milan per sentito dire. Parlo e gestisco delle cose di casa mia, conoscendole direttamente. E quindi con tutta la responsabilità oggettiva che questo comporta. Se poi c'è gente che da anni e anni avrebbe tanto voluto fare il mio lavoro e non essendo riuscita a farlo, cerca di leggiarlo con il sorrisetto finto, tirato e slavato, è un problema un po' suo, che si deve risolvere da solo, o che si devono risolvere da soli. Io non posso fare nulla, onestamente. Torniamo a Renato Sanchez. Renato Sanchez va al Paris Saint-Germain. Dov'è Suma? Ragazzi, calma. Poi, Renato Sanchez? No, ma Renato Sanchez? Prima di trattarlo il Paris Saint-Germain deve cedere altri giocatori. No, ma Renato Sanchez in realtà aspetta al Milan. No, ma Renato Sanchez adesso arriva a Galtier, al Paris Saint-Germain, ed è come un suo secondo padre. Renato Sanchez, il Milan ti aspetta, ma fai in fretta. Ragazzi, qui, francamente, mi sembra, mi sembra che venga veramente il mal di testa a star dietro a tutto. E tutto questo casino, tutte queste notizie smuzzicate, frastagliate un tanto al tocco, che cambiano da un'ora all'altra, da una bocca all'altra, da una voce all'altra, da un sito all'altro, da un profilo Twitter all'altro, tutto questo è colpa del caos societario del Milan, che negli ultimi tre anni di mercato non ha fatto mai sapere niente a nessuno, e le cose si sono sempre sapute dopo, piuttosto che prima. Francamente, è bizzarra, è folcloristica come tesi, che la miriade di cose che vengono lette sul mercato del Milan è colpa del caos societario del Milan. Caos societario che non c'è, perché Paolo Maldini ha detto le cose come secondo lui stavano, e da quel momento è iniziato il lavoro della proprietà, della società, del management, per arrivare all'unico risultato possibile, che è quello del rinnovo contrattuale, Paolo Maldini e Ricci Massa. E tutte queste cose che fanno parte delle trattative Bottman e Renato Sanchez, fanno parte delle trattative. Non è che se Paolo e Ricci avessero rinnovato, oggi avremmo Bottman preso a 40 milioni, Renato Sanchez preso a 30 milioni, eccetera, 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 togliamoci questa cosa. Poi più tardi parleremo del budget, adesso lasciatemi semplicemente ricordare che per l'appunto, da questo punto di vista, tutto quello che riguarda il mercato del Milan fa parte del mercato del Milan. Il Milan non fa uscire sussurri, non fa strategie di comunicazione, come a dire, vabbè dai lo scudetto l'hanno vinto loro, però adesso facciamo uscire ogni giorno cose di mercato per fare in modo che l'entusiasmo si crei dalla nostra parte, lo scudetto lo si vinca. Anche perché io penso che i tifosi del Milan, quando vedono negare lo scudetto del Milan da parte degli avversari rancorosi che cianciano di onestà e che in realtà vogliono soltanto cercare disperatamente di creare casino nel campo avverso, nell'altro campo, beh, producono un solo risultato, quello che i tifosi del Milan godono ancora di più del loro scudetto, o no? A più tardi ragazzi!